a pomeriggio 5 qualcuno ha avuto la felicissima idea di invitare paolo brosio sul tema vaccini e chiesa tra gli ospiti c'era anche un prete favorevole ai vaccini e una sua intervista è stata titolata mettendo insieme le parole no vax satan la cosa ha fatto infuriare brosio secondo il quale il prete in questione lo manderebbe via dalla messa visto che non è vaccinato ma nessuno ha detto una cosa del genere in ogni caso brosio ha difeso a spada tratta come tutti i no vax la sua posizione in merito al vaccino nel farlo ha urlato sbraitato e non lasciava parlare gli altri dato che non c'era modo di fermarlo barbara d'urso ha preso in mano le redini della situazione ha invitato brosio a dare spazio agli altri visto che aveva espresso il suo pensiero poteva bastare così secondo la conduttrice ma non secondo brosio che ha continuato e mentre la conduttrice provava a calmarlo lui sosteneva di non aver ancora finito il discorso e ha aggiunto se no non mi inviti più non voglio più venire non è giusto dopo queste parole barbara ha perso la pazienza ma non la ca no attenzione scusami è a me non va di discutere in diretta perché non è il mio stile non mi dici se no non mi inviti più io da padrona di casa invito per favore ad avere un tono meno urlato e di consentire anche agli altri di intervenire la conduttrice è stata molto brava a mantenere la calma in verità soprattutto perché anche mentre lei formulava questo pensiero brosio continuava a sborbottare e a interromperla a un certo punto la d'urso ha chiuso gli occhi per non esplodere la discussione è andata avanti quando a un tratto brosio è scoppiato di nuovo il motivo stavolta le parole di un'altra ospite che lo ha invitato a non urlare altrimenti si diffondono ancora di più i droplet le goccioline respiratorie ebbene per brosio questa sarebbe diffamazione tu non mi puoi diffamare sono un soggetto sano oggi ha urlato parlando del suo tampone negativo barbara d'urso si è avvicinata a brosio adesso basta paolo si è messa davanti a lui di fronte al tavolo dove siedono gli ospiti lui non ne voleva sapere di fermarsi non dica queste cose se no la denuncio continuava a sostenere di essere molto arrabbiato ma barbara lo ha zittito per cortesia paolo non mi rispondi così c'è modo e modo di essere arrabbiato c'è l'educazione anche quando si è arrabbiato quindi la conduttrice ha cambiato discorso dicendo di non parlare più di paolo brosio a stuzzicare di nuovo il già furioso brosio è stata alessandra mussolini che voleva però scherzare con lui brosio non so che ti ha fatto sto covid ma ti devi calmare figlio mio te lo dico col sorriso non ce la facciamo più guarda non so come ha fatto barbara io mi stavo togliendo gli auricolari brosio si è offeso di nuovo ma era più calmo rispetto a prima barbara ha aggiunto oggi gli è preso a fine puntata la conduttrice ha salutato così il suo pubblico grazie per questo tavolo caldo molto caldo ma noi siamo anche questo